1968 2018 50 anni di sassicaia in realtà sassicaia nasce intorno agli anni 40 quando mario inciso della rocchetta pianta le prime barbatelle di vitigno francese cabernet sauvignone cabernet franc l'idea è completamente sconvolgente per il territorio di bolgari poi intorno agli anni 60 l'incontro tra mario nicolò incisa della rocchetta e giacomo tachis l'enologo in principio quando sassicaia era agli albori i cavalli mantenevano sassicaia quando sassicaia è diventato un mito sassicaia aiuta i cavalli grazie a tutti